L'Indiano, il quindicinale d'inchiesta di Telerama. La crisi profonda del calzaturiero salentino e i fondi spesi per risolverla. Dove sono andati a finire i 54 milioni di euro del PIT 9 di Casarano? Tra inchieste della magistratura, cattedrali nel deserto, autorizzazioni superveloci, vortici di consulenze, la storia di una grande occasione perduta. L'Indiano, questa sera, ore 21.30, su Telerama.